Il suono compatto della chiusura di una portiera segnala la qualità dell'auto. Milioni di persone nell'Europa dell'Est ricordano le Lada, il cui assemblaggio su licenza Fiat scattava la metà degli anni Sessanta in Russia. I primi veicoli erano una versione più robusta della Fiat 124. Più di un milione di esemplari fu venduto in Ungheria, dove veniva chiamata Gigouli. Efficacissimo fu il primo SUV popolare Lada dell'Est, la Niva. Gli amanti di Gigouli hanno una propria associazione con 100 collezionisti. Penso che la migliore sensazione riguardo alla Gigouli e altre macchine dell'epoca sia che ti senti tu alla guida del veicolo. Non ci sono dispositivi di assistenza. È un'esperienza speciale, migliore di guidare un'automobile contemporanea. Negli ultimi anni Lada ha cercato di rinverdire il marchio, ma non vende più nell'Unione Europea. Negli ultimi decenni Lada è diventato sinonimo di scassa qualità e tecnologia obsoleta, ma negli anni Settanta era esattamente l'opposto. I giovani di oggi non penseranno alla parola lusso quando vedono una Lada, ma negli anni Settanta la Gigouli 1005 era l'auto di prestigio dell'epoca, con interni di qualità e un bracciolo di separazione nei sedili posteriori.